Ciao tifosi del Napoli, iscriviti al canale, e lascia il tuo mi piace, il tuo mi piace per noi è molto importante, rimani fino alla fine del video per non perderti questa notizia, il Napoli vuole essere protagonista a Barcellona, siamo insieme, e ora passiamo alla cronaca. Napoli interessato a Caravaca, il talento del Barca seguito da Totti. L'ex numero 10 della Roma gestisce, insieme a Giovanni De Montis, un interessante talento attualmente al Barcellona. Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Toni Caravaca, centrocampista classe 2004 del Barcellona. È quanto confessa Giovanni De Montis, socio di Francesco Totti, con il quale ha fondato il CT10 Management, agenzia che gestisce giovani talenti in tutto il mondo. Totti è il partner di riferimento dice De Montis a calciomercato.com Io sono il socio procuratore che cura la parte negoziale contrattuale e Giancarlo Pantano è il nostro più stretto collaboratore. Oltre a noi ci sono diversi altri collaboratori esterni che individuano i giocatori e denunciarli. A proposito di Caravaca, a gennaio sono arrivate offerte dalla Serie A, ma il Barcellona non lo lascia partire. Il club spagnolo sta rimuginando sulla scadenza del contratto del ragazzo, anche il Napoli è molto interessato. Il duo De Montistotti, però, ha in mano altre speranze, Mutes Zadem, tunisino classe 2001, è un centrocampista molto tecnico. Spesso lo prendiamo in giro dicendo che assomiglia a Zidane, ma seriamente, ha grandi potenzialità. C'è spazio anche per i giovani che giocano in Inghilterra. Max Arons, terzino destro del Norwich. È gestito dall'agenzia inglese di Rio Ferdinand e noi lo rappresentiamo in Italia. Chissà se qualcuno di loro arriverà presto in Serie A.